ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale si sto godendo sto godendo come un riccio si si sto vedendo veramente come un riccio e che dire inizio subito dicendo e poi credo possa sembrare una tirata di bellino si direbbe qua ma una presa in giro ma mi dispiace per venuti avrei preferito piuttosto facesse un altro al posto di venuti però questo è calcio questo lo sport oggi è successo a lui e pazienza se ne farà una ragione di vita dico mi dispiace perché è un bravissimo cristo per quel che ho potuto vedere fosse successo magari un altro un po più antipatico diciamo che personalmente mi sta più antipatico sarebbe stato meglio però ragazzi sto godendo mi perdonerete il siamo venuti ma è stato più forte di me è stato il forte di me non ho potuto resistere detto ciò detto ciò premetto faccio un utile premessa a me questa partita interessava relativamente cioè nel senso non ero diciamo davanti alla tv a guardare questa partita con quella come posso dire con quella voglia assoluta di vincere di portarci a casa la vittoria cioè mi aspettavo una partita molto difficile che poi in realtà è stata e e vincere in questa maniera mi ha fatto godere cioè per quanto fossi interessato ma non una di quelle partite per cui strapparsi i capelli ecco diciamo così ho goduto ho goduto veramente veramente come un riccio detto ciò facciamo la partita e allora e secondo me la fiorentina ha giocato meglio senza senza dubbio ha avuto tre occasioni importanti la juve praticamente due se vogliamo dire una e mezza quindi sì la fiorentina un po di tiri nelle statistiche però poi se andiamo a vedere se andiamo alla ciccia poca 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 roba icone 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 oggi ha fatto fatto un partitone oggi veramente ha fatto il bello cattivo tempo primo tempo con la giocata che si porta il pallone verso il fondo rasvogliato sul secondo palo che scegli pochissimo mi è piaciuta tantissimo e vi dirò di più mi ha ricordato germy vogà con l'ultimo movimento con questo è spostato la palla mi ha ricordato proprio lui e ha fatto una gran giocata secondo me lì avrebbe meritato gol più che nel secondo tempo quando su un contropiede su una palla persa abbiamo rischiato di prendere gol lì secondo me è stato fortunato prima e poi sfortunato dopo fortunato prima perché ha saltato il difesore della juve con questa questa rientro così con desciglio che gli tocca il pallone però non riesce a fermarlo e palla che poi viene calciata dal dal nuovo giocatore della fiorentina che prende il palo ed esce e nel primo tempo l'altra occasione avevo detto tre occasioni l'altra occasione qual è stata per in che gioca una palla corta e arriva il giocatore della viola e la spara sopra attraverso praticamente a porta vuota lì secondo me c'è stato un misunderstanding tra per in e danilo avrebbe avuto più forse senso se proprio si volesse si voleva giocare questa palla corta darla a artur ma io lì sono dell'idea quando ti pressi in questa maniera palla su e chi se ne frega di quello che succede c'è lì non si rischia nulla e via sta palla anche perché anche la fiorentina con igoro una o due volte ha rischiato ragazzi io sono sempre dell'idea il possesso palla la costruzione dal basso va bene però c'è partita e partita c'è momento e momento quando hai una squadra come la fiorentina con citi pressava bomba è veramente difficile avere una qualità veramente alta per fare per farlo e non so se avete visto ma la juve oggi ha giocato con una formazione veramente imbarazzante cioè tra centro campo e attacco era veramente una roba acchiacciante a parte vlaovici ovviamente ma a che oggi non si è praticamente mai visto praticamente non si è mai visto questo a maggior ragione quando si dice ma che deve giocare assolutamente titolare ma calma calma non è una buona entrata in campo che frutta un rigore che frutta un fallo che allora uno deve essere titolare no si dose si fa crescere questa parte che comunque lo farà crescere e rabbio secondo me ha fatto una partita sufficiente ma niente di più locatelli secondo me ha fatto una buona partita lo stesso arthur secondo me ha fatto una buona partita però ragazzi c'è quanto mancava oggi zaccaria lì in mezzo la fisicità di zaccaria per dire uno quindi poi davanti secondo me moise e vlaovic avvic si ma moise a me continua ragazze a non convincere anche l'altro giorno a empoli secondo me ha fatto poco poi ha fatto il gol quindi assolutamente niente da dire però un po un po poco un po troppo poco e poi non avevamo praticamente di cambi parte quan praticamente la juve non aveva cambi sarei stato curiosissimo di vedere sulle e vi sarebbe piaciuto tantissimo l'ingresso di stramaccioni così dal nulla però non è successo quindi fiorentina che ha giocato meglio ha creato più della juve però ragazzi il pietro puoi fare ventiti scusate puoi fare venti tiri puoi fare quello che vuoi ma se non riesci a essere cinico poi rischi di prendere gol che preso quindi la fiorentina perde una partita secondo me in maniera immeritata perché se c'era una squadra che avrebbe meritato qualcosina in più era sicuramente la fiorentina e però questo è calcio ragazzi nel calcio quando si sfotte allegri quando dice certe cose è questo cioè tra il vincere e il perdere c'è una linea sottilissima ragazzi tu puoi fare 100 tiri ti scopri una volta sbagli prendi gol c'è niente da fare a parte che la juve oggi ha rischiato principalmente in contropiede o comunque in spazi aperti ma ricordiamo che oggi la juve ha giocato praticamente con quattro terzini scusate con tre terzini su quattro ha giocato con danilo de scigli e pellegrini e da lì lo comunque ha fatto secondo me una buonissima partita cioè quindi andiamo poi analizzare bene la fiorentina sul gioco ha giocato meglio ma me l'aspettavo anche perché oggi ragazzi mi aspettavo una partita che una bolgia che infatti è stata cioè per loro è la partita dell'anno per noi una partita come tanti e a momenti vlaovic ci mette anche lo zampino perché vlaovic ha avuto un'occasione e quasi quasi fa gol e quindi ecco diciamo che la fiorentina ha giocato meglio sì però adesso non facciamo il peggio calma voglio vedere quando la fiorentina gioca con una juve al 100 per cento e aggiungo ragazzi non ce lo stiamo dimenticando ma lì davanti manca anche chico chiesa è ciò dimentichiamo ma ma anche a chico chiesa non mancava solo di balla mancava anche chico chiesa ricordiamoci questa cosa qui oltre che mancava bernardeschi oltre che morate le in panchina i due cambiano io praticamente oggi hanno morata e quann che poi la decise come sempre quando giocatore incredibile giocatore incredibile a livelli assoluti un top player a per anni ho detto che qua nel top player mi ricordo che molti anche su youtube quando deve andare via sì 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 parlate parla ci sono tanti che si sciacquano la bocca che parlano di calcio e questi poi sono i risultati andiamo a vedere le ultime stagioni di quann e direi che i numeri parlano un tantino per lui poi io non sono uno che ama particolarmente concentrare il calcio sui numeri però penso che nel suo caso sia anche giusto e doveroso ogni tanto sottolinearli quindi ragazzi detto ciò la juve poi la sblocca grazie a venuti e scusate mi viene da sorridere perché perché veramente è stato è stato bellissimo perché vi giuro che quando mancavano pochi minuti eravamo già nel recupero tipo 91esimo pensato adesso 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 la sfanghiamo in una maniera o nell'altra o segna vlaovic o succede qualcosa di strano e la sfanghiamo infatti alla fine abbiamo sfangata e poi in una maniera veramente allucinante allucinante perché poi mi sembrava che addirittura venuti avesse recuperato al suo errore anche sfortunato ragazzi è stato sfortunato e invece dolce l'ha fatta quindi bellissimo anche perché poi ci mette in prospettiva per il ritorno in un'ottima situazione perché comunque devono venire a torino non prendere gol non prendere gol e al ritorno comunque ci dovrebbe essere paolo dovremmo recuperare magari bernardeschi altri giocatori quindi possiamo anche fare un po' la rosa ci sarà zaccaria e quindi a ritorno sarà tutta un'altra partita in casa nostra con un gol di vantaggio in trasferta significa che loro per passare nei 90 minuti dovrebbero farci due gol e ripeto senza prendere meno uno e lo so quante volte vlaovic ti perdona sotto questo punto di vista quindi che dire io sto ancora godendo non me ne vogliano gli amici dalla fiorentina e ricordo che ho anche la maglietta di riberi quindi non volete non vogliatemene però è stato bellissimo ragazzi è stato bellissimo è stato veramente bellissimo e ultima chiosa ho sentito l'intervista max di continuano a pompare questo primo posto questo primo posto ragazzi ci hanno sfrantumato tre quarti è questo primo posto pensiamo al quarto posto perché la dea comunque è sempre lì che ci fa ombra quindi pensiamo a vincere partire che dobbiamo vincere tutte queste che arrivano in filata prima dell'inter e poi e poi vediamo ripeto per me lo scudetto quest'anno no l'anno prossimo occhio occhio ragazzi occhio occhio detto ciò io vi mando un forte abbraccio iscrivetevi al canale diffondete il verbo oggi l'ho detto perché mi hanno fatto notare che ieri nel video di ieri non l'avevo detto quindi oggi lo dico diffondete il verbo e iscrivetevi iscrivetevi e attivate le notifiche ciao a tutti sto ancora godendo come un riccio bellissimo grazie a tutti